La questione Quirinale si potrebbe chiudere se Letta e Salvini si mettessero d'accordo. Sarebbe così semplice in teoria, sarebbe un vantaggio per entrambi, due leader politici in questo momento ai margini che ritroverebbero centralità politica. Certo Salvini si deve emancipare da Berlusconi, non è semplice. Berlusconi in questo momento è a casa sua a Roma, nella famosa villa sulla Via Appia, con Sgarbi al suo fianco, che chiama i parlamentari e gli dice ti passo il presidente, lui che cerca di fare campagna acquisti. Ma è difficile che ce la possa fare, immaginiamo, naturalmente. Dall'altra parte c'è Letta che deve avere questo guizzo, fare l'accordo con l'abressario numero uno, un accordo strategico che avrebbe da parte sua il vantaggio non solo di tornare protagonista, ma anche di tagliare fuori Renzi e gli altri centristi che cercano di fregarlo, mettendosi loro a fare i famosi kingmaker. Questa è la situazione, ovviamente come potevamo immaginare, l'abbiamo detto per giorni, è tornato in auge il nome di Mattarella, l'ha fatto persino Letta. Mattarella ha disperato un anno e mezzo, chi lo sa. Diciamo che la politica, se trovasse un altro nome, sarebbe meglio, perché ritornare sul capo dello Stato uscente come fu per Napolitano sarebbe l'ennesima sconfitta per tutti, l'ennesima sconfitta per il Parlamento e questo non fa bene alla democrazia.